La quinta giornata di andata del campionato di eccellenza regala a Chions e Charlie Smuzzane la vetta della graduatoria a più tre sulle immediate inseguitrici. I poldenonesi del mister Lenisa e i bassaioli del mister Vittore sono le uniche squadre ancora imbattute in questo avvio di campionato al pari della Gemonese che ha raccolto finora una vittoria e quattro pareggi, forte anche della seconda miglior difesa del campionato dopo quella del Chions che incredibilmente non ha ancora subito gol. Charlie Smuzzane e Torviscosa sabato nell'anticipo televisivo in diretta su Udinese TV è stata una partita che non ha tradito le attese della vigilia. I padroni di casa sono riusciti con un gol per tempo a fiaccare la resistenza dell'undici di Carpin che in avvio di campionato stenta ancora a decollare. A fine partita nel chiosco dello stadio della Ricca di Carlino i commenti erano molto positivi per parte Charlie Smuzzane e piuttosto abbacchiati per parte Torviscosa. Sconfitto il Torviscosa al della Ricca di Carlino contro un Charlie Smuzzane solido, un Torviscosa che nel primo tempo ha fatto la partita come è la migliore tradizione della formazione del presidente Midolini, poi quel gol a freddo, insomma, gol alla fine del primo tempo vi ha un po' fatto perdere la Tramontana. Sì, penso che l'analisi sia abbastanza corretta, nel senso che se c'era una squadra al primo tempo era la nostra, quella che ha giocato, ha provato delle trame anche abbastanza interessanti, ha dato intensità a tutti i 45 minuti. Abbiamo preso gol all'ultimo respiro del primo tempo e questo mentalmente ci ha tagliato le gambe, siamo rientrati in campo secondo tempo proprio bastonati, cioè riuscire ad andare a riposo sullo 0-0 saremo sicuramente tornati in campo con la stessa vitalità, la stessa cattiveria. Il gol ci ha tagliato le gambe, abbiamo comunque provato a rimanere in partita contro una squadra che non scopro certamente io, con delle individualità importantissime. Abbiamo poi preso il secondo gol su un'ottima punizione di Fabbro, che però è causa di una ripartenza su una palla che era nostra, gestita forse non benissimo. Questo è il calcio, io ripeto, sono contento di quello che è stato visto, hanno fatto vedere i ragazzi specialmente al primo tempo, perché abbiamo fatto capire che possiamo sicuramente dire la nostra. È ovvio che l'episodio ci ha penalizzato troppo, penso. Due episodi, perché anche nella circostanza del calcio di punizione di Fabbro non si è capito bene l'espulsione di Candotti come sia arrivata, perché il fallo era di Del Piccolo, lui è stato munito a seconda munizione, ma perché? Io di preciso non ho ancora chiesto al ragazzo quello che è successo. Se l'arbitro ha pensato a questa soluzione, probabilmente qualcosa è successo e a priori dobbiamo pensare che non deve succedere. Ripeto, non so, non ho la certezza di quello che è successo, quindi non metto la mano sul fuoco. Però se l'arbitro ha fatto una scelta del genere, qualcosa deve essere successo e non deve accadere, anche perché il campionato è lungo, siamo alla quinta di campionato e quindi è gratuito perdere dei pezzi così per qualcosa di detto o non detto che non si è ancora capito. Mi sarebbe detto che avevi ancora col, l'avete in panchina stavolta, ma non ha potuto giocare perché la luce dà problemi fisici. Avete comunque anche in settimana passato il turno in Coppa Italia, quindi è un Tolvis Cosa che ha ambizioni e che continua a giocare bene. Tolvis Cosa, noi siamo vivi, lo ho detto ai ragazzi, eravamo vivi dopo la sconfitta contro l'Uminiaco, eravamo vivi dopo la vittoria a Fontana Fredda. Dobbiamo andare a casa da qui ancora più consapevoli che noi, se giochiamo da squadra e con l'intensità giusta per 90-100 minuti, il nostro campionato lo possiamo fare e lo possiamo fare cercando di arrivare al più in alto possibile senza rimpianti. Questo deve essere il leitmotiv della nostra annata. Poi è ovvio, ci sono delle squadre che probabilmente hanno altre ambizioni, però insomma il campionato è lungo e ogni partita si deve giocare. Noi dobbiamo essere bravi a vivere alla giornata, ad affrontare avversario per avversario senza fare tanti proclami, andando a fare i spenti e non andando a pensare a lungo termine, ma ripeto, partita dopo partita. E ricordiamo anche che al termine della partita scorsa Dennis Godeas ha fatto i complimenti a Tervis Cosa dicendo Godeas è una delle poche squadre, se non l'unica, che gioca e propone sempre gioco per cui vi ha fatto i complimenti, questo lo dico io. Prossima partita, mister? Prossima partita, Tolmezzo. Ripeto, dobbiamo stare sul pezzo, faccio un passo indietro, i complimenti fanno piacere ma non fanno punti. Ne ho sentite di cotte e di crude in settimana e quello che penso io ed è quello che sto cercando di poi trasmettere ai ragazzi è che noi dobbiamo stare dentro le nostre quattro mura e fare gruppo dentro di noi. Poi quello che viene detto, se è qualcosa di piacevole, può far piacere, però deve finire lì. Le critiche ci stanno, ci sono sempre strade, però ripeto, vale lo stesso discorso per i complimenti. Non fanno punti. 2-0 la vittoria del Giannis Muzzane sul Tor Viscosa con il mister Vittore per commentare questo ulteriore successo. Dicevamo che in cronaca sono stagioni che partono benissimo e ci sono anche segnali importanti perché recuperare la partita precedente a Tolmezzo a trecesimo con un gol di Fabio nel finale e oggi giocare così bene contro un Tor Viscosa certamente partito con ambizioni importanti significa che Carlino, questa stagione, può dire la sua fino in fondo. Dai mister. Sei bene, non ci possiamo nascondere. Devo dire che oggi comunque la squadra, il primo tempo non benissimo, non benissimo, bene diciamo, però secondo me la ripresa è stata fatta con determinazione, con voglia, con se vogliamo un po' di furbizia e cattiveria che non guasta tenendo conto che noi abbiamo vinto contro una grandissima squadra, devo dire, perché loro sono veramente una grandissima squadra. Ambizioni, le ambizioni sono quelle di fare bene, di fare... non voglio neanche parlare, è chiaro però le partite bisogna giocarle, bisogna giocarle, perché sulla carta non vinci niente, il campo è che decide dopo. È chiaro che se noi mettiamo determinate caratteristiche in campo, mettiamo anche determinazione, voglia, fame, allora insomma, ad esempio domenica il primo tempo di tricesimo non è stato proprio così, siamo andati lì a giochichiarla questa partita e vedi che poi vai in difficoltà con squadre, perché le squadre di eccellenza sono tutte di eccellenza, c'è poco da fare, non è che vai in giro e giochi una squadra di terza categoria, sono di eccellenza e di un certo tipo e se non fai la partita rischi, rischi. Quello è. Soprattutto qui nel secondo tempo con Tottor Viscosa si è visto un Cialdi Sbuzzano molto, direi l'aggettivo giusto è solido, non avete rischiato niente. Sì, mi tocca portare pure il dolce martedì, perché non abbiamo preso gol, lo faccio volentieri, però insomma è la prima volta che ci succede quest'anno, perché noi si facciamo gol, però ogni tanto prendiamo il golletto, lo prendiamo, adesso in un modo, adesso nell'altro. Oggi non è capitato, siamo stati più bravi di altre volte e tenendo conto che nel secondo tempo, onestamente, eccetto qualche uscita così di Simone, io non mi ricordo dei tiri in porta, vabbè, probabilmente, l'ultimo della ricca, sì, 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 quel tiro che è andato alto sulla traversa, sì, sì, però diciamo, devo fare i complimenti ai ragazzi, perché veramente oggi mi hanno fatto veramente un bel regalo. Mister, passendito in settimana, la vittoria a Monrupino sul crash, ulteriore dimostrazione che insomma anche in Coppa ci tenete. Sì, no, no, la Coppa, io in Coppa io ci tengo tantissimo, perché sarebbe una cosa straordinaria cercare di arrivare lì, poi è chiaro che la società, io oltre a, personalmente ci tengo, però anche la società ci tiene, quindi farò di tutto, farò l'impossibile per fare in modo che, almeno arrivare in finale, poi la finale, insomma, sì, dobbiamo giocarcela, però vorrei arrivare, mi piacerebbe arrivare in finale. Situazione infermeria, Mister, a che punto siamo? Quella non è proprio il massimo, perché sì, è vero, noi siamo una squadra costruita per non aver problemi, però i problemi sono troppi adesso, cioè, sembriamo più una squadra da football americano, che da dei giocatori, uno la clavicola, uno il gomito, la spalla, e c'è, non so, perché a livello muscolare non abbiamo problemi, sono traumi da gioco sul nostro, diciamo, fisico, quindi, però dobbiamo gestire queste cose qua, e nell'arco di un anno ci può stare, perché ci sono squadre che, ad esempio, ce li hanno dopo questi problemi, però tutti ce li hanno, prima o poi, perché siamo, le partite sono tutte tirate, tutte, anche lo scontro fisico è quello che conta, tante volte, e purtroppo ogni volta che c'è qualcosa, noi abbiamo sempre la peggio, però, è il calcio. Per 24 ore siete in testa di nuovo, da soli alla classifica, attendendo domani Chions contro Manzanese, prossima partita, mister? Eh, andiamo a San Luigi, insomma, lì è una partita, lì veramente, è una partita un po' a sé, perché lì ci sono azioni, una dietro l'altra, che vengono effettuate, cioè, io vedo, quando vedo partite al San Luigi, là vedo un macello di azioni, di occasioni da gol, quindi bisogna fare attenzione, là bisogna veramente fare attenzione. La punizione di Fabro, magistrale? Veramente, devo fare i complimenti a lui, perché, eh, domenica la calciata ha preso il palo, eh, sì, sì, però devo dire, molto, calciata, ad alto livello. l'autore del gol, del primo gol, del primo gol del Gianni Smuzzani, allo scadere del primo tempo, è il, dottor, Zanon, complimenti per la laurea e per il gol. Grazie, 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 è stata una bella gioia, una settimana impegnativa, lunedì sera la laurea, mercoledì la partita in Coppa, oggi, contro il derby, contro il Tor Viscoso, è stata, una bella gioia, ecco, dai. E quindi a te va bene l'anticipo al sabato, così hai più tempo adesso per festeggiare, perché almeno due o tre giorni te li dedichi a te stesso. Eh, vediamo, dai, stasera sarà un po' impegnativa, sicuramente ho tempo fino a martedì per recuperare, pensare poi al San Luigi. Che partita è stata oggi? È stata una partita impegnativa, perché loro sappiamo che sono forti, sappiamo che giocano bene, però, dietro, personalmente, siamo stati molto attenti, molto svegli, abbiamo chiuso la partita senza prendere gol, è stata la prima partita del campionato, quindi sono molto contento. Ti sei sganciato spesso e volentieri dalle parti di Buso, l'azione del gol come è stata? Perché c'è stato forse un rimbalzo strano per il portiere, però tu bravo, com'è successo? Eh, sappiamo che Osso le calcia forti sul primo, eh, il portiere è stato un po' incerto, dai, è stato un po' un gol di rapina, la Pupo Inzaghi, dai, speriamo di farne ancora, e speriamo che porti bene. E ricordiamo che siete protagonisti anche in Coppa, la tua stagione, il tuo gol stagionale l'hai segnato, per adesso si può migliorare, la media, la media gol, So che sei un po' scaramatico. Beh, non dico niente, ma speriamo che sia l'ultimo, anzi, che non sia l'ultimo, e che porti bene, per me, per la squadra, per la società, e per tutti, ecco dai. 200 partite in eccellenza per Luigi De Blasi, complimenti. Sì, è un bel traguardo, anche se non sono proprio a 200 in eccellenza, sono comprese le 28 in Serie D, quindi quando ero Tamai, però sì, è un bel traguardo, e sono abbastanza felice di ciò. Senti, ma queste, tutte queste partite, in realtà, allora, abbiamo sbagliato il conteggio, però certamente, è una cadena importante, quella che stai disfruttando. Eh sì, guarda, l'altro giorno, per puro caso, parlavo con mio padre, dicevo, eh, cavoli, sono sei anni che gioco a Corno, questo è il sesto anno che gioco in prima squadra a Corno, avrò fatto un po' di presenze, e per l'esattezza, ieri che hanno fatto i conti con altri giornalisti, sono 167 con la maglia del Corno in prima squadra, poi, se vogliamo aggiungere anche quelle delle giovanili, sono sicuramente di più, però sì, sono contento, Corno è la mia seconda famiglia ormai, e poi quest'anno sono anche il capitano, e sono felice che mi abbiano dato questo ruolo importante, e tutto bene. E quindi la capitano quest'anno con la Virtus Cono, cosa volete fare, dove volete arrivare? Beh, il nostro obiettivo ovviamente è salvarci il prima possibile, abbiamo tanti giovani bravi, che ovviamente stanno conoscendo adesso la categoria, quindi hanno le loro difficoltà, però noi li stiamo aiutando a far capire anche dove si sono, trovati, perché se passare da un campionato junior a un campionato di eccellenza, sì, non fai salto in due giorni. Gigi, ultima domanda, chiaramente, da capitano avrai anche maggiori responsabilità, all'interno dello spogliatoio, con tutte queste nuove situazioni che stai vivendo, tu come ti trovi? No, benissimo, anche perché diciamo che nella mia indole è stata anche negli altri anni, anche l'anno scorso, che poi è capitano Andrea Osso, perché ci sono state vicissitudini, perché poi all'inizio lo fallo io, poi io sono stato infortunato, poi giustamente il mister ha dato continuità a lui, parlando neanche con me, io ho detto assolutamente non c'erano problemi, però sì, è un ruolo importante, quindi bisogna anche a volte sapersi contenere, quando prima magari potevi arrabbiarti di più, adesso sai che hai un ruolo importante, perché sei il primo che deve dimostrare cosa bisogna fare, e come bisogna farlo, quindi non è facile, però è un bel compito. No, scusami, ho ancora una domanda, perché sfrutto la tua qualità di insider, hai visto il Ciannis Muzzani, battere anche il Tor Viscosa, è una candidatura importante quella del Ciannis? L'altro giorno parlavamo dopo la partita di Coppa con i miei amici del Carlino, e ho detto che quest'anno potete perdere solo voi, perché sì, non ho ancora visto giocare l'Umi Gnacco, che secondo me è un'altra candidata alla vittoria. Oggi ho visto il primo tempo un bel Tor Viscosa, ma si sa già l'anno scorso che giocano un bel calcio, lo si vede, poi appunto se prendere gol a 30 secondi dalla fine ti butta giù un po', poi l'espulsione, comunque si vince anche solo di episodi, e Carlino per adesso è bravo anche in questo, poi hanno giocatori che potrebbero fare categoria anche più importanti. Complimenti e in bocca al lupo a Capitano Ebradio. Creppi, grazie. C'è l'espulsione che batte il Tor Viscosa col Presidente Zanutta, ormai Presidente, avanti in Coppa con goleada a Monrupino. Oggi battuto un Tor Viscosa, comunque ricco di ambizioni, direi meglio di così non può andare in questo momento. Sì, prendiamo quello che viene dal momento e andiamo avanti, sicuramente è una settimana eccezionale, c'è il neo di tricesimo che era una partita da vincere, però prendiamoci anche il punto, visto che è arrivato al novantesimo su un euro goal come al solito di Fabbro. Oggi abbiamo vinto un derby, quindi c'è la doppia soddisfazione, il derby in casa con l'amico Midolini, e nella bassa frullana due compagini molto importanti, perché Tor Viscosa è arrivato secondo l'anno scorso, quest'anno ha le stesse ambizioni, che penso rimangano comunque immutate dopo una partita ben giocata dal Tor Viscosa. Secondo me noi abbiamo fatto la nostra gara, il primo tempo è stato un primo tempo abbastanza intenso, forse le occasioni erano due a uno, due per il Tor Viscosa, una per noi, nel secondo tempo un po' il calo fisico degli avversari, un po' la supremazia, magari in certi reparti, perché sono usciti certi giocatori determinanti, abbiamo prima segnato e dopo chiuso la partita con il solito Fabbro. Dopo si sa che queste partite dove il livello agonistico è abbastanza livellato, sono gli episodi che fanno la differenza. Oggi è andata bene a noi, speriamo che continui così, viviamo il momento intanto, e dopo sarà quel che sarà insomma. Può sembrare agli occhi dei più che Carlino Cialis Muzzane sia costruito per il vice, ma in realtà avete problemi anche voi, perché l'infermeria è piena e comunque partita dopo partita il mister ci diceva prima che deve trovare qualche soluzione alternativa. Bene aver costruito anche una rosa così competitiva, ma soprattutto così lunga. Sì, siamo partiti forse con due o tre giocatori in più e quindi pensavamo di avere problemi anche perché dopo i giocatori importanti vogliono andare in campo. Per fortuna, per fortuna non abbiamo problemi di scelta, perché effettivamente sì, Moras che stava benissimo perché era quello che aveva più in condizione, si è rotto all'uomo di cristallo, l'ho nominato io, perché l'anno scorso tre partite ha rotto il nosso del piede, quest'anno tre partite rosso alla spalla, speriamo che rientri il prima possibile, dovrebbe togliere il gesso il 28 di ottobre, 15 giorni, spero che rientri in campo. Dall'altra parte Grion, un altro infortuno molto serio perché ha fatto la torsione del gomito, anche lì è un infortunio, gli ho detto voi non dovete andare a giocare a pallavolo, intanto, dopodiché magari calcisticamente fanno più infortuni a livello dal busto in su che non dal, però effettivamente abbiamo avuto due infortuni che pesano e sono molto importanti, però secondo me se vogliamo raggiungere obiettivi importanti, se vogliamo essere una squadra importante, servono 20 giocatori che siano tutti i titolari, allora in quel caso lì si possono raggiungere obiettivi importanti, se la vera sfida del mister quest'anno è far sentire 20 giocatori, 20 titolari, allora si può rambire a qualcosa di importante. La sua soddisfazione del presidente per il 5 a 1 a Mondupino? Perché so che la Coppa è uno dei suoi obiettivi. Ma intanto siamo andati in semifinale, di solito arrivavamo al primo turno e siamo in semifinale, è già un qualcosa, adesso sicuramente ci sono rimaste quattro squadre sicuramente di livello e dopo il risultato della Coppa bisogna vedere che obiettivi ognuno si dà, perché secondo me il Kras non è una squadra da perdere 5 a 1 in casa. Probabilmente anche Tortolo ha la sua coperta e la vuole gestire in una determinata maniera, io la leggo così. Certamente per me vincere a Trieste con l'amico Goran sicuramente è stato non sentire la cavalcata delle valchire che suonano ogni volta che segnano è stata una soddisfazione. Alla fine è bene così e soprattutto soddisfazione anche oggi con un altro erro-goal di Filippo Fabio. Sì, una bellissima punizione che ha chiuso la partita effettivamente molto bene però molto bene parecchi giocatori secondo me è Luca Nastri nel mezzo e sta diventando una diga la difesa comincia a prendere borsesso ricordo che la prima partita che non prendiamo gol anche quello è un altro non so oggi tanti allenatori dicono che si vince i campionati non prendendo gol speriamo che sia l'inizio di un viatico perché fino ad oggi un gol a domenica l'abbiamo sempre preso quindi ci sono degli elementi positivi oltre al risultato questa domenica Però Presidente finché subite eventualmente un gol ma ne segnate sempre due anche televisivamente parlando va sempre bene Sì, è vero è vero i telespettatori sono sicuramente contenti del gioco e del soprattutto dei gol che si realizzano però come giustamente dicono gli allenatori più scaffati vedi Zoratti vedi Tortolo non bisogna prendere gol se si vuole raggiungere obiettivi importanti Il Chions ha battuto per 2-0 la Manzanese sempre ultima della graduatoria ancora al palo con 5 sconfitte e 8 gol subiti nelle prime 5 giornate di campionato Il fine settimana dedicato ai calcio dilettanti su Udinese TV ha regalato anche la diretta di Virtus Corno contro Vesna finita 1-1 sul tabellino e anche in sostanziale parità per quanto riguarda il gioco prodotto sul terreno del campo sportivo di Corno al termine dell'incontro abbiamo avvicinato i protagonisti La partita vista oggi a Corno è stata una bella partita da ambo le parti io avevo visto anche mercoledì mercoledì avevo visto il Vesna giocare all'Uminiaco mi aveva impressionato oggi si vede che hanno pagato un po' la fatica del mercoledì di Coppa comunque noi siamo andati su 1-0 poi loro hanno pareggiato due minuti dopo e potevamo anche ripassare in vantaggio in due occasioni con Mosanghini purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni pareggio secondo me è il risultato giusto prossimo turno abbiamo il derby andiamo a Manzano e speriamo noi di continuare sul nostro sul nostro campionato insomma proseguire su questa su questa linea qua vedremo comunque ogni partita è aperta a qualsiasi risultato quindi non si dà niente per scontato ogni domenica bisogna giocarsela una partita difficile lo sapevamo venivamo dalla partita di mercoledì dove sicuramente abbiamo speso un po' troppo e siamo andati un po' oltre secondo me le nostre possibilità era l'unica maniera per poter passare il turno secondo me il primo tempo oggi abbiamo fatto bene abbiamo tenuto un buon ritmo mi aspettavo sicuramente una partita così sapevo le qualità della squadra con cui andavamo ad affrontare che sicuramente avrebbe giocato di rimessa perché è una delle sue armi e così è stato siamo andati in svantaggio fortunatamente siamo stati bravi a pareggiare tre minuti dopo e alla fine credo che l'1-1 del primo tempo rispecchi quello che si è visto onestamente secondo tempo siamo calati fisicamente devo dire che grazie al nostro portierino che ha salvato secondo me il risultato la Virtu sicuramente ha fatto qualcosina meglio di noi col seno di poi credo che accetto il risultato perché sicuramente venire fuori da questo campo è un campo difficile con il risultato di un punto ci va bene venivamo da una settimana dove abbiamo giocato tre volte quindi meglio di così non potevamo fare non so se avremmo avuto la forza di rimetterla in piedi se l'occasione la Virtus fosse passata in vantaggio quindi accettiamo molto serenamente questo risultato che alla fine credo che sia il risultato giusto la partita era aperta probabilmente chi avrebbe fatto gol nel secondo tempo avrebbe vinto la partita insomma giochiamo contro il tricesimo in casa quindi questa settimana cercheremo di di recuperare un po' le energie perché sicuramente non ho a disposizione una ampia rosa per poter fare turn over lo si è visto anche oggi insomma ah sì allora il gol è successo in un'azione nostra cioè sono partiti bene molto nella fascia destra l'abbiamo messa dentro e in una ribattuta me la sono ritrovata ho ho cercato di cioè ho tirato ho tirato di destra l'ho messa angolata come è stata c'è una partita un po' sofferente però abbiamo giocato molto bene cioè ci siamo trovati molto bene solo che dobbiamo allenarci più nei tiri cioè nel senso dobbiamo essere più decisivi davanti alla porta ad esempio Mosanghini cioè potevamo segnare almeno due gol potevamo vincere 3 a 1 però è andata così va ben così dai in promozione continua la marcia trionfale del Briand di Precenicco sempre imbattuto e ormai a più 5 sulle inseguitrici nel girone A per la formazione del presidente Chiandotto 5 vittorie 10 gol fatti solo 4 subiti e la sensazione che questo sia davvero l'anno buono per provare a salire in eccellenza per quanto riguarda il girone B ben più combattuta la sfida al vertice con l'oltre che dopo lo stop Aronchi nel turno precedente si è rifatta con gli interessi battendo per 5 a 1 una ancora troppo incostante Tarcentina mentre il Gonars ha vinto sul campo della Procervigliano Muscoli il derby della Bassa Friulana per la Friulana che si è rifatta così Grazie a tutti.